Per quanto riguarda la categoria, io parlo principalmente per la Commissione Patrimonio, chiaramente, quindi in qualità del bene comune patrimonio, la categoria assimilabile al patrimonio relativa all'utilizzo a fini di servizi pubblici e di servizi di pubblico interesse per i cittadini, questa finalità rientra già all'interno della categoria del patrimonio indisponibile di Roma Capitale, per il quale ci sono finalità ben precise, istituzionali, sociali, culturali, a tutela dell'interesse dei cittadini, che in qualità di Movimento 5 Stelle, come maggioranza dettata dal nostro programma e dai principi che guidano il nostro lavoro, è previsto una partecipazione per i cittadini nella decisione delle finalità di servizio a cui indirizzare l'utilizzo di questi beni. Quindi da questo punto di vista, la categoria bene comune non è una categoria che riteniamo essere necessaria, in quanto già tuteliamo questo percorso sia di partecipazione sia di servizio all'interno della categoria del bene patrimoniale indisponibile di Roma Capitale. Grazie.